C'è un dato da conoscere. Come tutti i dipinti degli ultimi e travagliati anni del Caravaggio, il quadro di Nancy ha una materia pittorica piuttosto povera. Già in passato il pittore aveva lasciato trasparire del bruno della preparazione, usandolo come fosse del colore, cioè senza sovrapporre altro colore, per alcune zone in ombra o alcune zone dello sfondo. Un metodo che viene definito solitamente a risparmio, proprio perché c'è risparmio di tempo e di colore, che tra l'altro favoriva la rapidità di esecuzione. Dunque l'ultima attività, quella più frenetica, convulsa, Caravaggio, come sappiamo, era in alcuni momenti pressato perché inseguito da chiunque avesse potuto eseguire il bando della piena capitale, avrebbero potuto ucciderlo seduta stante chi l'avesse riconosciuto. Ma non è solo questo il motivo per cui le ultime opere del Merisi hanno questa materia più povera, è anche una scelta stilistica che peraltro ricorre negli ultimi, in particolare negli ultimi due anni della sua produzione. Ecco allora questo modo di dipingere ha inciso, se vogliamo, ancor più su un intervento così pesante, per di più considerando che la materia povera della pellicola pittorica risultava meno resistente a un trauma invece tanto pesante e incisivo. Le immagini che vedete sono una ripresa dell'annunciazione al momento della pulitura e poi dopo la verniciatura finale, quindi così come si presenta in mostra. Ho affiancato l'altra immagine perché consente di cogliere, almeno nella riproduzione, un quadro difficilmente riproducibile anche perché riflette molto, non è semplice avere una riproduzione efficace del reale stato del dipinto. Qualche elemento sulle vicende dell'opera. Il primo dato che noi conosciamo è relativo all'incisione che Jacques Bellange ha realizzato tra il 1613 e il 1616, ispirandosi liberamente, come potete vedere, dal dipinto di Caravaggio. Infatti in alto trovate l'incisione in controparte perché disegnando sulla base del dipinto poi incidendo si inverte l'immagine, sotto l'immagine è capovolta per favorire una miglior comprensione di come il pittore l'ha ripresa. Si tratta di una libera ispirazione nella quale ancora emergono forti stilemi manieristici che mostrano quindi un'ancora parziale comprensione da parte di un pittore francese della novità e del realismo del Caravaggio. Ecco allora il primo dato, una riproduzione che mostra quanto già fosse anche in Francia celebre il pittore Lombardo. Il quadro apparteneva a Enrico II di Lorena che nel 1608 divenne signore di Nancy. La donò alla primaziale della città dato che si evince da un documento nel 1645 in cui si parla del quadro definendolo della mano del famoso pittore Michelangelo senza dire altro quindi si potrebbe addirittura confondere come fosse il buonarroti Michelangelo. Ma solo nel 1737 ai tempi della ricostruzione della cattedrale si ha certezza che il dipinto si trovasse appunto in quella chiesa. John Gash ha ipotizzato che inizialmente il dipinto fosse posto nella cappella privata di San Giorgio all'interno del palazzo del Duca Enrico di Lorena perché essendo in costruzione la primaziale provvisoria ha ipotizzato questa collocazione all'interno della cappella della residenza ducale. Tuttavia non ci sono prove per dimostrarle e quindi un'ipotesi da tenere in considerazione ma che non comporta nulla per ciò che riguarda la stretta storia del dipinto. Invece il documento del 1645 che citavo accerta che l'annunciazione fu del Duca Enrico II di Lorena e fu a sua volta che a sua volta lo donò alla città di Nancy. E' interessante osservare che la moglie di Enrico di Lorena fosse Margherita Gonzaga. La sorella, guarda caso, del cardinale Ferdinando Gonzaga che a Roma si adoperò per la grazia al Caravaggio. Inoltre i Gonzaga si erano già interessati al pittore acquistando attraverso il Rubens nel 1607 la celebre morte della Vergine che era stata rifiutata dai frati carmelitani di Santa Maria della Scala. A conseguenza di ciò si è pensato che il tramite della Commissione possano essere stati i Gonzaga ma un'indagine approfondita dimostra come in realtà il campo delle possibilità sia molto più vasto rinviando a tutto un ambiente incrociato dal Caravaggio e attraversato al suo interno da una serie di scambi e di parentele. Cito un dato che a mio avviso è rilevante messo in luce da Maurizio Calvesi e direi rafforzato dai documenti rintracciati a Malta da Stefania Maciocce vale a dire la presenza a Malta dai primi giorni del 1608 del conte di Brigè figlio naturale di Enrico di Lorena che era giunto nell'Isola dell'Ordine con tanto di lettere commendatizie del padre di Cardinali e dello stesso papa Paolo V. un personaggio di rango esattamente nel momento in cui si pensa possa essere stato eseguito o quantomeno commissionata la pala di Nancy il figlio naturale del duca che poi lo possedette era a Malta mentre il Caravaggio soggiornava nell'isola alla fine di luglio dello stesso anno 1608 fu a Malta per una settimana anche il principe Francesco di Lorena ripartendo dall'isola il primo di agosto e se a commissionare il quadro è un'ipotesi potrebbe essere stato il primo dei due cioè il figlio naturale il secondo potrebbe aver addirittura ritirato il dipinto perché a Malta ci si giungeva per nave e quindi si aveva agio di poter trasportare anche un'opera di grande dimensione è un'ipotesi naturalmente che parte da dati circostanziati e che comunque non sembra tanto peregrina per un'altra serie di motivi che accenno solo rapidamente i Lorena avevano dei rapporti strettissimi con i medici perché la sorella di Enrico di Lorena Cristina aveva sposato Ferdinando de' Medici e voi sapete che queste relazioni dinastiche giocano un ruolo fondamentale in quel momento come peraltro in molti momenti della storia e Ferdinando de' Medici che aveva come rappresentante a Roma il Cardinal del Monte protettore del Caravaggio e suo ospite per lunghi anni i del Monte i Medici i Colonna i Borromeo i Gonzaga sono tutti strettamente legati tra loro e strettamente legati ai Lorena committenti di questo dipinto un inciso il Cardinal Federico Borromeo aveva rapporti diretti e autorevoli con il Vescovo di Nancy e c'è tutto un epistolario proprio tra l'8 e il 9 di richieste, di scambi attraverso i quali si evince che lo stesso Borromeo era interessato alle vicende della primaziale di Nancy e dell'intera diocesi in questo senso il rapporto con il Caravaggio diventa naturale tutto il circuito di personaggi che in qualche modo ruotano attorno a Nancy e anche alle vicende storiche e religiose della città sono quelli che fanno parte del normale ambiente nel quale il Caravaggio lavora dal quale il Caravaggio è protetto e dal quale cerca di essere liberato dal bando della penale capitale ho citato il Ferdinando il Cardinal Gonzaga come colui che ha fatto richiesta al Papa di Grazia ma ancor più decisivo è il fatto che Enrico II di Lorena aveva come motivo per commissionare un'annunciazione un elemento fondamentale per la sua città non si era stata posta sotto la protezione della Vergine annunziata sin dalla fine del Quattrocento e non era un caso isolato molti di voi sapranno che Firenze registrava come tante altre città europee l'inizio dell'anno civile dal 25 marzo tra l'altro è tutto casuale del tutto casuale che la conferenza accada di 25 marzo non c'è stata con Caterina una scelta premeditata quindi un orientamento generale che pone la festa dell'annunciazione anche all'interno del calendario civile con un ruolo fondamentale la città dedicata e la sua primaziale futura cattedrale ha come titolo quello della Vergine annunziata ho citato gli rapporti di Lorena con i Gonzaga cosa che ha fatto supporre ad alcuni studiosi un contatto già dal 1606 per una possibile commissione della Pala Enrico II nel 1606 sposa appunto Margherita Gonzaga e l'interesse per il Caravaggio come ho citato è molto evidente da parte di quei signori di Mantova e collezionisti e i rapporti con Roma con la Roma nella quale ancora il Caravaggio risiedeva nel 6 prima del famoso omicidio di Ranuccio Tommasoni a partire dal quale il Caravaggio fuggì prima nei territori del Lazio Meridionale poi a Napoli poi a Malta poi in Sicilia e via dicendo questi rapporti tra Gonzaga e Lorena hanno fatto ipotizzare un'adattazione quindi dell'opera ai tardi anni romani e proposta che fu avanzata sin dal 1948 dal Parisè che fu il primo a riconoscere in quell'opera un dipinto autografo del Merisi di recente dicevo John Gash ha fatto una ricostruzione anche su base stilistica per confermare queste ipotesi di una adattazione precoce tuttavia condivido ciò che la stessa redattrice della scheda per il catalogo della mostra Francesca Cappelletti vale a dire non mi sembra che ci siano motivi sufficientemente validi per arretrare la datazione ma sicuramente 1608 1610 vale a dire la data della morte del pittore non volendo per forza limitare agli anni maltesi potrebbe avere avuto la commissione a Malta e averla realizzata in Sicilia o come pensa qualcuno a Napoli quindi proprio negli ultimi mesi prima poi di risalire verso Roma con il sciagurato viaggio che poi l'ha condotto a Patercole e alla morte questi elementi naturalmente che ho riassunto si basano anche su raffronti stilistici in particolare Mina Gregori quando scoprì la celebre Sant'Ursola trafitta di Napoli e di cui vediamo un particolare notò una somiglianza tra il volto e l'attitudine composta della Sant'Ursola in rapporto con l'annunciata di Nancy non solo diciamo c'è una somiglianza nell'impianto compositivo ma c'è un'identità nel sentimento e nell'atteggiamento interiore delle due figure femminili la Sant'Ursola indubbiamente sembra appare più avvincente sia per questa compostezza tragica della giovane martire che guarda quasi impassibile il petto trafitto dalla freccia d'altra parte non possiamo valutare appieno la figura della Vergine proprio a causa della sgranatura della figura e del fatto che infatti come si può notare ecco tutta la guancia della Vergine è stata garbatamente integrata non è stata rifatta cioè non è stato fatto un falso ma hanno tentato di integrarla alla meglio un confronto del genere spingerebbe a una datazione davvero molto tarda quindi alla fine della vita del pittore dato che la Sant'Ursola è proprio al termine della vita del Caravaggio ed è quindi un'opera estrema altri raffronti spingerebbero come è stato fatto ad anticipare al primo soggiorno napoletano il rapporto tra la figura atletica dell'angelo con quelli della Madonna della misericordia o sette opere di misericordia del Piemonte di Napoli opera realizzata nel 1607 sembra di udire seppur di percepire seppur in termini meno evidenti per l'impoverimento della superficie quello lo stesso fruscio delle grandiali che governano il librarsi e come avvitarsi delle figure angeliche ma a benvedere non mancano pure ricordi delle ultime opere romane in particolare si nota la somiglianza dell'interno volutamente spoglio dell'annunciazione in rapporto con quello della morte della Vergine ho già citato questo dipinto rifiutato dai carmelitani della chiesa Maria della Scala in Trastevere che andò a Mantova e poi in Inghilterra e poi giunse a Parigi dove si trova attualmente a Louvre dipinto rifiutato non solo a causa dell'immagine troppo cruda della Vergine rappresentata con una popolana i biografi dicono con una prostituta annegata nel Tevere ma anche dall'imbarazzo di porre sull'altare un quadro dipinto da un omicida su cui pendeva il bando della pena capitale questi confronti ci introducono all'analisi dell'annunciazione e degli elementi davvero scarni che la compongono vale a dire il protagonista l'angelo che qui si vede meglio l'angelo Gabriele luminoso nella veste bianca e mobile come una fiamma che si proietta repentino nell'umile stanza in modo davvero irruento per altro verso la vergine assorta di messa che sembra aver appena lasciato la sedia alle sue spalle sedia di legno e paglia per inginocchiarsi davanti appunto all'apparizione angelica un letto semidisfatto che emerge sotto una tenda verde scuro che conferisce all'interno un tono feriale e il senso di un evento imprevisto come qualcosa che avviene all'improvviso la capacità quella che è stata detta e ripetuta infinite volte il Caravaggio ha inventato il film il cinematografo perché riesce a cogliere l'attimo con un realismo e una istantaneità davvero sorprendenti vediamo i dettagli ho parlato dei dipinti del Caravaggio e dei suoi interni che sono sempre connotati da pochi mobili scarni oggetti da un lato a causa dell'invadente ombra che non lascia percepire tutti i dettagli dall'altra per quello che da lungo tempo ormai è stato sostenuto non solo da Calvesi ma anche da altri studiosi di quell'atteggiamento filo-paoperista che esalta la semplicità e la povertà del mondo degli umili e dei dereditti in dipinti come l'annunciazione di Nancy e la morte della Vergine la descrizione dell'ambiente è disadorno e rivela pienamente l'intenzionalità dell'artista se noi notiamo si riconosce si riconoscono i materassi quella coperta rossastra e tutti elementi che fanno parte di una cultura come quella del cardinal Federico Borromeo che usava avere una stanza spoglia arredata da una seggiola impagliata da un giaciglio su due cavalletti è naturalmente un orientamento non circoscritto a soli pochi personaggi ma a tutto un ambiente all'interno dei quali però i personaggi come Federico Borromeo spiccano ed emergono anche per la sua frequentazione del Caravaggio probabilmente sin da giovane con Costanza Colonna che era sua stretta parente quando Caravaggio stava a Milano bambini in casa dei Colonna c'è qualcosa di più e dagli elementi giungiamo a cogliere come il Caravaggio in novi l'iconografia ma al tempo stesso non lo faccia in modo trasgressivo il Caravaggio emenda le figurazioni religiose dai dettagli superflui rispettando potremmo dire rispecchiando la prescettistica controriformata qualche rapido esempio il noto discorso del Cardinal Gabriele Paleotti intorno alle immagini sacre e profane che per certi versi è stato visto come un testo sensorio sull'arte anche se dagli studi di Paolo Prodi si è visto invece che questa è una lettura non solo semplificata ma anche impropria e basta vederlo dai testi attraverso brevi frasi cogliamo come il testo del Paleotti in fondo non venga trasgredito anzi osservato nell'Annunziazione della Vergine quando l'Arcangelo Gabriele la salutò non dice la scrittura quello che allora facesse la Madonna se camminava o sedeva o cusciva o cusciva o operava altro niente di meno tutti i pittori sempre hanno concordato che la fosse genuflessa all'interno della stanza e in orazione e così ci abbiamo persuadere che fosse Caravaggio non esce da questo solco e poi dice Paleotti lo riassumo questa idea della Vergine che nel Rinascimento talvolta è rappresentata con abiti ricchi e fino con le perle pendenti alle orecchie e così via ci sono cose prive di adesione al testo biblico e alla realtà storica sul luogo così si pronuncia quando si dipinge la stanza dove fu annunciata l'Angelo Gabriele la quale si ha da credere che fosse conforme alla virginale e alla sua semplicità anzi come ancora oggi si vede nella Santa Casa di Loreto appunto l'elemento trasportato da Nazareth dai crociati in realtà ma per virtù angelica secondo la tradizione si vede una stanza davvero spoglia e umile e niente di meno aggiunge Paleotti molti vi aggiungono fuori vi aggiungono fuori della stanza colonne alte e dentro padiglioni ricchi e altre superfluità molto lontane dalla professione sua c'è una scelta di semplificazione di adesione al testo sacro di rappresentazione efficace e possiamo dirlo persuasivo convincente che liberasse l'iconografia sacra dai virtuosismi del manierismo ma anche di tutti quegli elementi leggendari che sin dal medioevo erano stati traghettati fin nella iconografia rinascimentale ma a questo si può aggiungere un altro elemento un altro trattatista Ioannes Molanus celebre studioso di Lovanio nel suo trattato sulle immagini sacre del 1570 così dice per l'annunciazione del signore spesso si trova dipinto un giglio non perché in quell'epoca si trovassero dei gigli ma perché la beata vergine tenesse presso di sé un giglio ricamato fatto in cera ma per significare la purezza e perpetua verginità di Maria la quale in ragione delle verginità con la sua purissima vita fu come un giglio tra le spine qui si diffonde a spiegare questo discorso Caravaggio è in linea con gli elementi essenziali il giglio che noi vediamo rappresentato vistosissimo quindi non c'è nulla di fuori posto anzi la scarna rappresentazione del Caravaggio corrisponde a mettere in evidenza gli elementi essenziali del messaggio che si vuole rappresentare giglio peraltro tripartito che secondo la tradizione rimanda al simbolo trinitario tutta la trinità partecipa alla incarnazione di Cristo perché l'annunciazione del caso di chiarirlo meglio l'annunciazione non è soltanto un episodio ma come abbiamo visto ed è tra l'altro l'interpretazione che veniva data da città come Firenze e Nancy scegliendo il 25 marzo come inizio dell'anno civile è dovuta al fatto che è il momento dell'incarnazione di Cristo cioè della dimensione divina della della dimensione divina che entra nell'umano ma c'è un fatto fondamentale questa scelta di rappresentazione deriva anche da una lunga e complessa tradizione che si poneva la questione di rappresentare l'irrappresentabile l'incarnazione non poteva essere figurata anzi sin dal 400 si erano stigmatizzati tutti quei dipinti che rappresentavano nell'annunciazione un piccolo bambino che discendeva da Dio Padre o dallo Spirito Santo e che come su un filo di luce scendeva fin nel corpo di Maria e si sono dibattuti a lungo questi problemi fino a dichiarare eretica questo tipo di rappresentazione perché il bambino si era incarnato nel corpo di Maria e non fuori dal corpo e poi vi era entrato insomma tutta una serie di questioni che vi risparmio ma che ci fa capire la questione dell'irrappresentabile che deve essere rappresentato cosa che peraltro interessa anche il Caravaggio ed è allora il problema che il Caravaggio si pone se gli artisti del Quattrocento ad esempio avevano scelto il medium della prospettiva per indicare come attraverso una forma geometrica il divino si incarnava nel terreno ed entrava nella dimensione reale così il Caravaggio che ormai fa parte di una cultura nella quale la prospettiva ha preso tutta altra dimensione sceglie invece la pregnanza del gesto simbolico pregnanza del simbolo che il gesto può rappresentare ad altissimo livello l'aveva fatto naturalmente già Leonardo l'aveva fatto Michelangelo è un esempio indicativo è proprio quel dito quell'indicare dell'angelo sopra la vergine che non si ritrova nell'iconografia dell'annunciazione ma Caravaggio si legge con Caravaggio ed è allora il famoso gesto il più celebre della vocazione di Matteo Sanluigi dei francesi che rivela l'idea di rappresentare il digitus paterne dextre attraverso il quale il diocratore nella volta sistina di Michelangelo e il Cristo che invita la nuova creazione chiamando l'apostolo dalla gabbella a seguirlo digitus paterne dextre che secondo la scrittura significa anche spirito santo i pari della chiesa per dirle in una battuta leggendo nel Vangelo di Luca che Cristo operava e guariva attraverso il il dito della destra di Dio e il Vangelo di Matteo che dice che operava attraverso l'opera dello spirito santo ha interpretato quel dito come spirito santo infatti possiamo vedere che l'angelo sostituisce lo spirito santo ecco una delle novità il Caravaggio è uno di quei pittori non l'unico che non mette la colomba se noi torniamo a verificare il dipinto non c'è traccia di colomba questi restauratori l'hanno cercato in tutti i modi e tra l'altro elementi bianchi sarebbero apparsi perché non c'è la colomba perché la presenza dello spirito santo è indicato simbolicamente da quel dito inconsueto che il Caravaggio mette in evidenza anche attraverso quella sorta di dinamica di dinamismo dialettico tra il braccio luminosissimo quindi è la destra di Dio vedete che è sempre la destra e l'angelo interpreta la potenza della destra di Dio che tra l'altro ha un significato particolare perché quando nel Vangelo di Luca si parla del momento in cui l'angelo parlò a Maria la risposta dell'angelo dopo che Maria ha chiesto come può avvenire questo la nascita del Cristo non conosco uomo rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te e su te stenderà la sua ombra la potenza dell'artissimo il testo della vulgata virtus altissimi obumbrabit tibi virtus in greco dynamis quindi potenza potenza dinamica forza virtù si può in questa parola trovare le diverse sfumature e declinazioni che il Caravaggio esprime con un gesto simbolico di straordinaria pregnanza dunque il dito che per fortuna si è conservato e che in qualche modo caratterizza il dipinto del Caravaggio viene posto in modo inconsueto sopra la testa della Vergine c'è il pieno rispetto delle norme post-teridentine ma c'è un'interpretazione innovativa e originale tra l'altro il termine obumbrabit tibi c'è tutta una letteratura perché tra l'altro il senso dell'ombra nell'annunciazione sin dal Medioevo acquista un significato particolare proprio a partire da questa citazione del testo di Luca ti ricoprerà con la sua ombra ma qui l'ombra del Caravaggio non è la semplice ombra che si proietta sulla Vergine o si proietta sul pavimento su una colonna sulla parete e ce ne sono esempi straordinari di interpretazione lungo il 4 e il 500 ma ti coprirà con la sua ombra in fondo è tutta la scena che avvolge nell'ombra Maria ti coprirà con la sua ombra ma ombra che non diventa cupa e opprimente perché viene rischiarata dal lume da questo fascio come fosse un riflettore potentissimo che proietta questa lama di luce a partire dall'angelo sulla Vergine così che il Caravaggio interpreta in modo singolare un soggetto frequentatissimo sì un soggetto che per potremmo dire è sicuramente tra i più diffusi del 4 e del 500 e si potrebbe attraverso la sola iconografia dell'annunciazione fare una storia dell'arte italiana ed europea fino all'800 per quanto è stata frequentata dai maggiori artisti compreso il Caravaggio qualcosa riguardo all' atteggiamento di Maria riguardo quindi a ciò che Maria pone con la sua figura si può subito notare il tratto dimesso gli occhi bassi le braccia incrociate sul petto non una novità potremmo dire anzi forse l'elemento più consueto più banale di un dipinto come questo anche se la resa nonostante la perdita del colore potete notare che il potete notare l'impoverimento della materia sul manto della vergine ma guardate i contrasti chiaroscurali come sono forti che volumetria che rilievo chiaroscurale ha il dipinto perché cito qualche rapido caso che pone le premesse di un'evoluzione interessantissima di cui Caravaggio segna il termine vale a dire la tradizione della Madonna dell'umiltà e quindi dell'atteggiamento di Maria come esemplare per arrivare ad accogliere l'annuncio dell'angelo infatti Simone Martini in questo dipinto mette la vergine quasi spaventata di fronte all'angelo e tra l'altro San Bernardino da Siena commenta cito un testo noto commenta questo dipinto indicando una sua predicazione avete visto in Duomo alla cappella di Sant'Anzano quel bellissimo dipinto non si trova in vero una Madonna più umile di quella tanto che dovrebbe essere d'esempio soprattutto parla delle ragazze del tempo c'era tutta una sorta di indicazione moraleggiante che partiva cosa però interessante dei dipinti per dire il ruolo che i dipinti avevano ma questo tipo di rappresentazione in fondo nasce dall'iconografia della Madonna dell'umiltà Caravaggio non fa altro che inserirsi in un filone che parte dal 300 ed è quella francescana secondo la quale la vergine e l'angelo annunziante sono inginocchiati ma crea una disparità se la vergine è sul pavimento l'angelo è in alto e quindi anche qui nonostante sia il terminale di una lunga tradizione c'è come un salto di qualità quali sono per dirle in breve i punti di contatto con la tradizione precedente sicuramente c'è Leonardo sia perché il giovane Caravaggio a Milano aveva visto e ammirato Leonardo e ne aveva apprezzato l'adesione al dato naturale adesione al dato naturale che naturalmente in una cultura in un contesto diverso diventa fondamentale per il Caravaggio ma non tanto per la celebre annunciazione degli uffizi quella più grande che vedete in basso ma soprattutto per la più piccola tavola del Louvre dove vediamo tra l'altro la stessa Madonna dell'umiltà quindi c'è una descrizione seppur in un contesto più grandioso naturalistico è la figura della Vergine l'essenzialità della figura dell'angelo con un dinamismo per l'uno e invece una compostezza e una certa posizione del corpo nell'altra ma Leonardo ci interessa anche per un altro motivo infatti dobbiamo sapere che Leonardo stigmatizzò quello che molti pittori rappresentavano e in particolare c'è una descrizione divertente che Leonardo stigmatizza rimproverando gli errori dei pittori come io vidi a questi giorni un angelo che pareva nel suo annunziare che volessi cacciare la nostra donna dalla sua camera con movimenti che dimostrano tanto di ingiuria quanto farsi potessi a un vilissimo nemico e la nostra donna pareva ed è questa la cosa più divertente che si volesse come disperata gittarsi giù d'una finestra sì che siate voi pittori a memoria di non cadere in tali difetti è curioso che Leonardo non ci aspetteremmo che proprio Leonardo che non sembra un personaggio molto osservante delle cose religiose invece difende l'adesione al testo evangelico la Madonna può essere rappresentata spaventata turbata ma questa Madonna così turbata da essere in un atteggiamento di terrore è del tutto fuori luogo proprio anche per quel senso di rapporto con il dato naturale e con la verità storica qualche rapidissimo esempio vediamo una sinopia di Ambrogio Lorenzetti realizzata vale a dire la preparazione il disegno preparatorio per un'annunciata di San Galgano dove addirittura la Vergine si butta in terra contro una parete per sfuggire all'angelo tanto che poi nella redazione definitiva Ambrogio cambia e mette una figura più tradizionale quindi fu rimproverato questo eccesso Botticelli si contiene di più ma tra l'altro uno degli obiettivi di Leonardo era proprio Botticelli stigmatizza Botticelli in questo tipo di rappresentazioni che ovviamente per Botticelli non corrispondono al gettarsi dalla finestra della Madonna ma in questo atteggiamento spaventato che ha una serie di esempi numerosi Carlo Bracesco mostra una Vergine che si terrorizza perché dal cielo arriva un angelo tuffatore quindi non prevedendo questa incursione ha un atteggiamento più che timoroso così poi più tardi Lorenzo Lotto nella celebre annunciazione di Recanati fa girare la Vergine verso lo spettatore come a cercare aiuto soccorso perché non è tanto l'angelo in questo caso a spaventarla ma il tuffatore diventa Dio Padre che addirittura a mani giunte sta andando a capofitto sulla povera fanciulla di Nazareth e persino il gatto si spaventa come vedete e sfugge ecco dunque alcuni degli elementi che precedono la formulazione del Caravaggio e che ci fanno capire la complessità di una di un soggetto iconografico ma anche la complessità di un'evoluzione che partendo da certe premesse del naturalismo quattrocentesco e che vede in Leonardo il primo campione è interessante notare noi non la conosciamo più perché è perduta perché Leonardo aveva dipinto un angelo dell'annunciazione che sorgeva dall'oscurità alla maniera del San Giovanni Battista che voi vedete dell'ovra e non è un caso se Vasari proprio su quest'opera perduta quindi è solo un raffronto suggestivo ha scritto la sua celebre pagina sulla potenza delle ombre di Leonardo quello ingegno che avendo desiderio di dar sommo rilievo alle cose che gli faceva andava tanto con l'ombre scura a trovare i fondi dei più scuri degli altri neri per fare che il chiaro guardate tutto il gioco di parole di Vasari che è un grande letterato per fare che il chiaro mediante quegli fosse più lucido quindi il nero più nero perché il chiaro fosse più chiaro ed infine riusciva a questo modo tanto tinto che non vi rimanendo chiaro avevano più forma cose fatte per contraffare una notte che è una fierezza del lume del dì in Caravaggio se c'è il contraffare la notte possiamo dire che c'è anche però la fierezza del lume del dì a differenza di Leonardo ed è questo un passo decisivo che avviene attraverso il pittore altri rapidi una delle fonti di Caravaggio non parlo di fonti iconografiche parlo di fonti stilistiche potremmo dire concettuali dell'immagine è Giovanni Girolamo Sovoldo la cui complessa opera costituisce insieme al giorgionismo quindi alle fonti venete e lombarde una delle fonti di Caravaggio la sua annunciazione del 35 non è notturna ma piuttosto crepuscolare e l'equilibrio luminoso dell'insieme si accorda con la presenza accennata di una scatola spaziale ma avete visto che il Caravaggio la scatola spaziale la riduce al minimo anzi sembra farla scomparire grazie all'esaltazione degli elementi della stanza che accoglie dell'annunciazione non si tratta quindi di un notturno viere proprio ma si tratta di una fonte stilistica molto importante per il Caravaggio come per altro verso può esserla l'annunciazione di Vincenzo Campi degli anni 80 un altro pittore lombardo allora vedete cultura veneta e cultura lombarda insieme sono esempi indicativi anche per mostrare quali sono le novità rispetto alla sua matrice culturali che il Caravaggio introduce tra l'altro Savoldo mette Dio Padre a distanza e la colomba dello Spirito Santo ancora fuori dalla finestra non c'è dentro invece Campi fa il contrario fa il rompere Dio Padre non il tuffatore come Lorenzo Lotto ma la figura di Dio Padre sulle nuvole con lo Spirito Santo proprio sopra una Madonna che però è una Madonna reale di carne tangibile quasi come quella diciamo che prelude a quelle che poi alle figure che il Caravaggio realizzerà però notate già le ali in Savoldo e poi in Campi come diventano ale materiche tangibili non c'è qui un diretto rapporto di dipendenza Leonardo da Pistoia detto il Grazia in questo dipinto del 1530 circa prepara però quella semplificazione dell'immagine che poi in Caravaggio diventerà pregnante e di efficacia sorprendente vale a dire la presenza dell'angelo e della Vergine diventa sovrastante rispetto al contesto ed è allora questo insieme di sintesi di formule sul quale poi si innesterà l'opera del Caravaggio che è un pittore di grandissima cultura e soprattutto naturalmente di cultura artistica è un paragone indicativo il rapporto con i Veneti per non limitarmi all'esempio di Savoldo è il Tintoretto questo volteggiare di angeli andando alla scuola di San Rocco ne troverete moltissimi angeli dalle vesti candide che appaiono nel buio come quello che rotea in alto in questa stanza semidiruta e qui c'è una concezione non solo dell'antico e del mondo antico che finisce ma anche della dimensione povera della stanza della Vergine siamo già a 1582 il paleotti ha già scritto il suo trattato e quindi c'è un adeguamento nonostante il padiglione sia ancora molto ricco ma il paragone tra due angeli non è certo peregrino un altro elemento che invece è di carattere minutamente iconografico e riguarda la valenza simbolica dei gesti è forse il quadro più vicino all'iconografia dell'angelo che indica sopra la testa della Vergine rispetto a tutti quelli che ho potuto vedere in tante verifiche che ho compiute tuttavia l'angelo del Tintoretto ha il dito rovesciato ma ciò non toglie che comunque il gesto sia condotto direttamente sulla testa della Vergine proprio con lo stesso significato che il Caravaggio gli ha voluto conferire avviandomi verso la fine anche perché devo giungere a mettere in luce il cosiddetto dettaglio smarrito che alcuni vogliono conoscere c'è una differenza profonda nonostante la riforma iconografica del tempo tra quello che dipinge Ludovico Carracci certo tempo prima dell'annunciazione di Bologna e quello che realizza Caravaggio Ludovico Carracci è il vero interprete del Cardinale Paleotti non solo perché lo conosce e quindi appartiene allo stesso ambiente ma perché fa parte di quella riforma pittorica che poi porterà al classicismo caraccesco quindi in tutt'altro orientamento stilistico ha in comune con il Caravaggio la scelta di semplificare il contesto c'è anzi in Ludovico un neoquattrocentismo guardate il ritorno dalla prospettiva anche se il mobili è scarno l'immagine povera sono le figure dell'angelo della vergine a dominare la scena c'è una differenza la vergine è la sedicenne di cui parla l'apocrifo il protovangelo di Giacomo che probabilmente era anche un elemento ispirato dal fatto che la confraternia del Santissimo Sacramento aveva richiesto questo dipinto per la stanza delle sue riunioni anche per la stanza dell'istruzione ai fanciulli quindi la vergine fanciulla di sedici anni potremmo dire secondo la data indicata al protovangelo di Giacomo che però Caravaggio non segue affatto la destinazione del dipinto di Caravaggio è tutt'altro ed è la cattedrale di Nancy quindi non è destinata ai fanciulli la vergine è più matura un ultimo confronto due opere realizzate nello stesso momento Jacopo da Empoli 1609 che rivelano due formule parallele ma diversissime da sé si commenta pur nella sua perfezione quella di Jacopo da Empoli è davvero secondo una felice definizione una pittura senza errori pittura senza errori che però non ha la forza l'efficace e la genialità di quella del Caravaggio è un confronto che mette in evidenza pur in un contesto in cui i pittori valenti sono moltissimi e di abilità tecnica anche straordinaria perché gli effetti creati da Jacopo da Empoli sono indubbiamente raffinatissimi ma che differenza di immagine e di efficacia del dipinto dobbiamo considerare che purtroppo l'annunciazione di Caravaggio è così impoverita da aver perso molto della sua forza comunicativa e veniamo allora alla questione ultima non abbiamo parlato della nuvola ho posto questo raffronto soltanto per far vedere che la nuvola comincia anzi riprende molta forza alla fine del Cinquecento all'interno dell'annunciazione e riprende molta forza sia per il protrarsi di certe invenzioni compositive del manierismo bizzarre ma anche perché prepara il terreno a quella che poi sarà la visione celestiale del barocco dove la profusione di nuvole naturalmente sarà non solo nei dipinti nelle cupole nelle volte affrescate in moltissime scene celesti dove l'elemento nubiforme è davvero fondamentale anche come elemento di sostegno guardate che l'incisione di Francesco Villamena su un disegno di Mario Arconio del 1598 ho scelto questa immagine anche per un motivo perché è dedicata ad Asdrubale Mattei Asdrubale Mattei e Ciriaco erano ospiti e committenti del Caravaggio quindi non è rilevante la cosa insieme ma il fatto che un'immagine di questo tipo vedete l'angelo in alto arriva dirompente verso la vergine guardate il giglio come è esposto ben in vista ma è ben altra cosa da quello che il pittore Lombardo realizza potete notare che la nuvola sta sotto il ecco sotto il lembo del mantello dell'angelo ed è quindi qualcosa che sostiene la vergine che le sta davanti io ritengo come peraltro non solo per il Caravaggio forse per il Caravaggio è un'ipotesi che si può discutere ma ritengo che la la nuvola possa avere il significato che gli veniva conferito da molti teologi e da molti trattatisti non solo del Medioevo ma anche dall'età moderna vi leggo soltanto una frase riportata tra l'altro da Jacopo da Varagine che cita Sant'Ambrogio e si basa su un passo di Isaia ecco perché la vergine viene chiamata nube leggera il nostro Dio salirà sopra una nube leggera Isaia 19 e Ambrogio così commenta il Signore sale su una nube leggera cioè su Maria Vergine che era nube in quanto eredità di Eva leggera perché non ci preoccupava di piacere agli uomini ma Dio leggera perché non aveva concepito nel peccato ma per opera dello Spirito Santo è una suggestione non è detto che il Caravaggio conoscesse il testo del Mariale Auro che pure era stato ristampato a Venezia nel 1590 ed era molto diffuso qui è tutto il problema che cosa deriva direttamente dalla cultura del pittore e che cosa deriva dalla cultura dei committenti quindi da coloro che in qualche modo interferivano con l'elaborazione di un soggetto tanto più se si trattava di una pala d'altare destinata alla cattedrale di una città come non si tuttavia indipendentemente se questa nube rinvia a Maria come nube leggera c'è però un fatto significativo l'angelo non sta sopra la nube leggera ed è un sospetto che avevo già prima che fosse scoperta che fosse restaurata la tela grazie ad alcune buone riproduzioni perché come potete notare sotto il ginocchio destro dell'angelo c'è qualcosa di legno non è certo una nuvola rettangolare non solo si tratta di un elemento legno ma se voi ben notate è come fosse un elemento legno nel quale persino si impiglia il lembo della veste dell'angelo lo potete notare in questa zona e qui vedete è un legno che ha dei buchi delle fessure e lì c'è persino una come se fosse sfondato questo supporto di che cosa si tratta lo potete vedere nelle due immagini quella più ingrandita consente di cogliere qualcosa che altrimenti può sfuggire dunque l'angelo non è sospeso non è in aria non è solo sulle nube ma si appoggia il Caravaggio è un pittore della realtà che ama anche rappresentare la realtà ultraterrene in modo molto umano e materiale pensate tutta la vicenda del primo San Matteo e l'angelo dove l'angelo la fianca e quasi lo dirige guidandogli la mano nell'iniziare a scrivere il Vangelo di Matteo dunque l'angelo non è sospeso si appoggia è planato in faccia alla Vergine che però non si spaventa abbiamo anche capito perché evidentemente è il tipo di rappresentazione che a partire dalla tradizione è giunta fino al Caravaggio la novità invece è proprio l'angelo che tra l'altro rappresenta come abbiamo detto il dito della destra di Dio e sosta per parlare dunque ha bisogno di un appoggio materiale si potrebbe dire non è possibile che questo sia dovuto anche al fatto che usando ritrarre modelli in posa ha messo qualcuno su un supporto e inginocchiato in quel modo ha fatto sì che la visione di questa figura indubbiamente straordinaria fiammeggiante sia dovuta al fatto materiale che il Caravaggio avesse qualcuno davanti agli occhi per trarne il modello non è dato risaperlo tanto più che nel periodo maltesi siciliano questo tipo di pratica risulta sicuramente molto ridotta il Caravaggio dipingeva molto a memoria e meno come faceva negli anni romani o nei primi anni napoletani ma indipendentemente da questo allora che cos'è quell'elemento che sta sotto all'angelo una balaustra una scrivania io penso si tratti di un inginocchiatoio per il semplice fatto che ha un'attenta osservazione della nuvola e di che cosa può racchiudere c'è soltanto la possibilità di indicare un'alzata quella che noi vediamo e che è proprio sotto il ginocchio e il piede dell'angelo e poi c'è una linea che qui è indicata sommariamente che potrebbe corrispondere invece all'elemento inferiore quello su cui ci si inginocchia dunque il Caravaggio avrebbe utilizzato un un elemento iconografico tipico di tutta la tradizione dell'annunciazione e non per questo può essere considerato un pittore che non innova o non crea anche in un filone tradizionale a conferma di quello che dico purtroppo non ho potuto presentare le radiografie perché proprio oggi a Ferrara per la prima volta i restauratori danno pubblica notizia di quello che hanno compiuto anche rispetto alle indagini radiografiche nell'immagine superiore ho indicato il fatto che quel supporto ligno dalla radiografia risulta avere anche il contorno interno laddove è coperto dall'angelo quindi è proprio un rettangolo vero e proprio così come appare il profilo di una il profilo di una colonnetta dell'inginocchiatoio non è un elemento fondamentale è soltanto un elemento che ci permette di conoscere qualcosa che non appariva ma che non sfugge al Caravaggio e che il Caravaggio reinterpreta in modo singolare forse conferendo a quella nube che l'avvolge il significato di una nube leggera che abbiamo visto prima ecco allora come un'opera che può apparire in realtà più consueta o più defilata rappresenti sempre invece la genialità creativa del pittore e anche la sua straordinaria efficacia comunicativa grazie c'è qualche minuto per qualche domanda prego c'è una signora io volevo chiedere una cosa perché già ho seguito anche quella di Calvesi c'è sempre una forte insistenza sul Caravaggio che rimane coerente con le indicazioni di una chiesa di contro riforma a parte poi insomma certe dualità che è notato nell'altra conferenza quasi di scientificazione il problema dei simboli che come lei dice possono essere prodotto della cultura di Caravaggio prodotto della committenza ma anche prodotto dalla società in generale cioè si usano sono talmente acquisiti che si fa riferimento quindi il problema importante secondo me non è tanto quella di una simbologia perché tra l'altro le simbologie stanno da per tutti in ogni frutto in ogni cosa continuiamo ad averle il problema è che il rapporto lui crea con queste cose e il rapporto che crea non è certo quello metafisico trascendentale anzi è proprio vuol fare il contrario allora io vi penso che questa adesione che viene emessa per una coerenza con la chiesa ufficiale della controniforma sia più vicina a quella protestante in un certo senso perché è il protestantesimo che segna fortemente un nuovo rapporto con la realtà grazie prego no no domanda più che pertinente perché è una domanda che ci si pone da circa cento anni e su questo c'è una letteratura vastissima che naturalmente non sta a riassumere in due battute perché è giusta la domanda perché in fondo c'è l'idea che la novità è il mondo protestante invece il mondo mediterraneo e cattolico è arretrato ma questo è vero fino a un certo punto anche perché il mondo mediterraneo e ho detto anche mediterraneo non solo cattolico è articolastissimo è differenziatissimo quello che vive il Caravaggio a Napoli a Malto in Sicilia è diverso da quello che ha vissuto a Roma a Milano anche se poi ci sono dei fili in comune io non ho detto che il Caravaggio è ossequiente ho detto che il Caravaggio innova nella tradizione infatti ho messo in luce il gesto del tutto inconsueto rispetto all'iconografia precedente e quel gesto dell'angelo che è piuttosto originale c'è una vaga idea in tinto retto ma non ha per nulla la stessa efficacia che naturalmente non può trovare documento esplicito di spiegazione sono suggestioni però non c'è alcuna alcuna prova di contatto tra Caravaggio e il mondo protestante quindi figuriamoci è giusto prenderlo in considerazione in tutte le relazioni storiche i documenti sul Caravaggio voi sapete ormai sono immensi ci fosse una prova di un rapporto col mondo protestante che lui avesse una posizione autonoma e defilata rispetto all'ortodossia cattolica è possibile ma ciò non vuol dire che il Caravaggio fosse protestante non c'è nulla dei suoi quadri che abbia un'esplicita dimostrazione protestante faccio un esempio la famosa vocazione di San Matteo ha addirittura l'aggiunta della figura dell'Apostolo Pietro per dire che non basta solo la chiamata da parte del Cristo ma che ci vuole anche l'Apostolo e voi vedete che infatti a indicare il Cristo in modo più esplicito l'Apostolo Pietro in modo più timido figura che dalla radiografia appare essere aggiunta in un secondo momento non era d'accordo ha solo obbedito a committenti noi sappiamo che ha obbedito se lui era convinto non era convinto non possiamo saperlo del tutto possiamo dire che il quadro che ha rappresentato non ha nulla di protestante anzi è proprio la raffigurazione della vocazione del Matteo in un momento in cui Enrico IV di Navarra da Ugo Notto torna a essere cattolico e Clemente VIII non voleva riammetterlo ci sono quattro anni di negoziati di dispute di reazioni spagnole che volevano impedire tale riammissione e viene fatto per San Luigi dei Francesi dopo la riammissione di Enrico IV nella Chiesa Nazionale di Francia quindi sono elementi che non possono farci pensare a una posizione filo protestante o filo gonotta però il parere è più che legittimo che lui potesse coltivare sentimenti protestanti se verranno fuori prove in questo senso siamo ben lieti di accoglierle quindi non è voler per forza fare di Caravaggio un ipercattolico era uno nel suo tempo infatti la simbologia era un mondo era un regime di cristianità si direbbe storicamente e quindi se lui fosse credente o non credente usava quei simboli con un certo significato c'era anche una signora quindi io sono d'accordo con lei ma non ho le prove per dire diversamente forse l'avevo visto male ah è andata via mi dispiace allora si crede che ho fatto una risposta troppo lunga prendiamo il caso di Leonardo Leonardo è straordinariamente persona originale vi ho portato un testo come Leonardo che a differenza del Caravaggio aveva maggiore autonomia di pensiero anche per i tempi diversi e per la sua posizione fa una difesa dell'iconografia dell'annunciazione in senso ortodosso impressionante per dire anche come le posizioni possono essere articolate prego volevo sapere se poteva fare un raffronto tra il dito di Caravaggio e il dito di Leonardo del Battista grazie si giusto naturalmente c'è innanzitutto una direzione diversa il dito del Battista indica in alto niente di più consueto potremmo dire banale qual è l'originalità di Leonardo prende un'iconografia tra le più diffuse del Medioevo il Battista col dito per aria ma lo fa emergere dall'ombra infatti ho portato questo paragone nonostante l'angelo sia perduto perché è una raffigurazione analoga a quell'angelo dell'annunciazione di cui parla Vasari ed è una concezione della figura attraverso un uso della luce che pone le premesse di quello che Caravaggio farà i neri più neri perché i bianchi siano più bianchi vale a dire teoricamente è Leonardo che ha inventato poi quello che Caravaggio porta al massimo dell'espressività mi sembra fondamentale questo infatti le annunciazioni di Leonardo e Caravaggio sono diversissime ma è l'idea di fondo anche nel suo sperimentalismo Caravaggio ha una radice lombarda leonardesca che si esprime in modo completamente diverso per quello che riguarda l'idea della luce c'è io non ne ho parlato ma mi dispiace di annoiare il signore che ha già stigmatizzato queste fonti per così dire teologiche da Marsilio Ficino in poi c'è tutta una lettura simbolica della luce ma poi naturalmente dall'età patristica della luce in chiave simbolica che è luce sovrannaturale allora in questo senso la fonte già in Leonardo non è dichiarata non è dichiarata perché è una luce che viene dall'alto la cui origine non si definisce però io credo è quello che penso in Leonardo c'è più naturalismo di quello che c'è in Caravaggio perché la luce è il Caravaggio ma sì c'è un naturalismo nella rappresentazione ma non è una luce naturale non è nemmeno una luce che viene da una finestra è veramente un riflettore cioè è una luce ideale vogliamo dire ideale però è una luce che nel caso dell'annunciazione non può altro almeno per coloro che vogliono leggere questa immagine una luce soprannaturale che è quella che accompagna all'angelo e che infatti investe la vergine parzialmente quindi è anche questo rapporto non solo tecnico del chiaroscuro ma proprio della concezione della luce che ha una radice filosofica ma come diceva qualcuno la filosofia non fa l'arte però la ispira forse possiamo c'è qualche buonasera sì c'è un'altra domanda sì volevo prestare attenzione al letto che compare nell'annunciazione è un letto disfatto ora in tutte le annunciazioni che io ricordo il letto invece è perfetto a significare appunto il concepimento di Maria per virtù dello Spirito Santo qui invece è manifestatamente disfatto Caravaggio poi mette tutto a posto con il giglio messo così in evidenza però anche questo penso sia una provocazione così come in altri quadri di Caravaggio lui usa spesso queste provocazioni pensiamo ad esempio alla San Giovannino dei Capitolini oppure all'amor vincitore con questa gamba sollevata a mostrare il sesso del bambino gamba sollevata che anche lì ha un significato religioso abbastanza evidente certo sì sì infatti queste sono le innovazioni che vanno sottolineate e penso ci siano due motivi fondamentali l'ambiente spoglio il letto disfatto e quindi la differenza fondamentale tra Caravaggio e Ludovico Carracci tra l'altro io personalmente a coloro che mi dicono che i Carracci stanno allo stesso livello di Caravaggio quantomeno per Ludovico non lo condivido proprio perché è una pittura perfetta misurata ma non trovo la creatività e l'inventività del Caravaggio il letto disfatto a mio avviso da un lato denota la provvisorietà della situazione il Caravaggio rappresenta sempre istantane i momenti di provvisorietà soprattutto negli ultimi momenti è una diciamo corrisponde a uno stato d'animo soggettivo ma corrisponde anche a un'interpretazione dei soggetti che rappresenta provvisorietà quindi è proprio dire la Vergine si è alzata da poco non ancora messa a posto la stanza si è messa magari sulla seggiola a pensare a riflettere a leggere e poi arriva l'angelo in una situazione come dire indesiderata d'altra parte il letto disfatto non è una novità come non sono una novità i piedi sporchi perché noi notiamo queste cose in Caravaggio e non negli altri pittori perché il Caravaggio le rende molto meglio degli altri ma ad esempio se vediamo i piedi sporchi con le unghie sporche e Caravaggio fa unghie meno sporche e luride di quelle che fa il moretto o di quelle che dipinge invece il Bassano perché in Caravaggio questi particolari trasgressivi fanno molto ecco hanno molto ecco perché è l'insieme che è straordinario quindi si nota la novità perché l'elaborazione complessiva è indubbiamente unica è di livello mai raggiunto in precedenza almeno secondo certe categorie e allora per questo il letto disfatto è anche dire che la condizione umana e che in questo senso il divino vive in una condizione umana di transitorietà di provvisorietà di fragilità questa preferenza per gli straccioni e per i diseredati non è un fatto casuale è una predilezione che denota un orientamento tra l'altro non vissuto da lui solo io penso ad esempio che uno degli ambienti da lui frequentato era quello dei francescani soprattutto i cappuccini che vivevano in condizioni miserande il cui aspetto era deplorevole cioè voglio dire però era una scelta ed erano personaggi che si frequentavano che facciavano parte dell'ambiente invece l'ambiente puritano a cui afferivano quella che è stata definita l'ala più conservativa conservatrice della curia del romana aveva ripugnanza di questi soggetti però come mai nonostante questo il Caravaggio è riuscito a fare tanti quadri per pubbliche chiese e conservarli nonostante sia stato omicida sì poi è vero la Madonna nella scala è stata rifiutata ma gli altri nessuno li ha tolti dagli altari anzi li hanno apprezzati per secoli la Madonna dei pellegrini con quei piedacci sporchi che Bellori dice gridano scandalo nessuno non l'ha riposto dall'altare è lì da secoli e quindi evidentemente non era considerato così eretrico e trasgressivo perché se c'era puzza d'eresia il quadro l'avrebbero preso e tolto immediatamente di mezzo perché questo era anche un fatto terribile il fatto esisteva all'epoca una condanna dell'eresia che aveva delle conseguenze giudiziarie e se avesse avuto un sospetto di questo genere avrebbe subito sorti di altri personaggi del tempo che avevano manifestato le loro idee apertamente quindi in questo senso se lui non lo dichiarava è un conto ma quello che manifesta è quello che noi vediamo dai quadri quindi un'idea sicuramente non conformista dell'immagine e della condizione umana ma non per questo per forza fuori da un quadro culturale o sociale come alcuni ambienti invece sentivano e rappresentavano un'idea un'idea Grazie a tutti